Pace a voi Dialoga con il mondo Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Pace a voi È il saluto Vangelo che il vostro Vescovo, primo testimone della Pasqua in mezzo al popolo, come eco del risorto, fa giungere a tutti voi. Vorrei poter dire pace a voi davanti al volto di ciascuno per entrare in ogni cuore. Con questa lettera vorrei poter giungere davanti alla soglia di ogni casa per portare la pace di Gesù Signore in ogni famiglia. Pace a questa casa Il concilio ecumenico Vaticano II ci ricorda La comunità cristiana, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il Regno del Padre e hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Seguendo il Vangelo secondo Giovanni, il risorto, detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Sono le ferite della nostra guarigione. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Sono anche le mani del Redentore, per plasmare l'uomo nuovo e del fianco del nuovo Adamo, da cui modellare la sposa, senza ruga e senza macchia, pronta per il suo sposo. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua, mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. I discepoli gioirono al vedere il Signore. Come nella prima creazione si sottolinea la gioia di Adamo nel riconoscere la sua sposa, osso dalle mie ossa, così nella nuova creazione è la sposa, i discepoli, a gioire nel ritrovarsi corpo nel corpo del crocifisso risorto, glorificato. Gesù ripete per la seconda volta, pace a voi, e svela il mistero delle nozze con la Chiesa, come partecipazione alla missione che egli ha ricevuto dal Padre. Si tratta della missione della nuova ed eterna alleanza, che, nel soffio vitale e rigenerante dello Spirito, porta agli uomini la misericordia e la pace. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Non è un potere, ma un servizio, vissuto nel dinamismo dello Spirito e nella sequela crocifiggente di chi rinuncia a se stesso. Con il crocifisso sulla croce gridiamo, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Con il risorto annunciamo, pace a voi. Questa è il frutto della misericordia, maturato sotto il soffio dello Spirito. Essa coinvolge pienamente colui che offre il perdono e colui che lo accoglie. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Nell'anno del giubileo straordinario della misericordia, l'annuncio pasquale, non è qui, è risorto, pone ancora una volta nella storia la vittoria dell'amore che perdona. La Chiesa nasce da quest'amore e con il suo sposo e madre che genere i figli nella misericordia. Così scrive Papa Francesco nella bolla di indizione del giubileo misericordia e vultus. La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. La sposa di Cristo fa su il comandamento del figlio di Dio, che a tutti va incontro senza escludere nessuno. La prima forma di tradimento della Chiesa sposa al suo sposo è il rifiuto della misericordia da annunciare e concedere, come Vangelo di salvezza. In questo tradimento sponsale si pone ognuno di noi, quando rifiuta di perdonare di cuore ciascuno al proprio fratello. Traendo lo sposo, la Chiesa e i cristiani si pongono nella condizione di rifiuto della misericordia del Padre. E' lo sposo Gesù che ci invida ad entrare con lui nella misericordia. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Il Papa afferma con decisione, è un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. Gesù è il volto della misericordia del Padre, quindi sul volto della Chiesa sposa, perdonata, deve risplendere la bellezza dell'amore che perdona. Il perdono delle offese diventa l'espressione più evidente dell'amore misericordioso. E per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere. Quando rispondiamo alla grazia di Cristo perdonando i fratelli, lo Spirito Santo, insieme con noi, dà un'altra pennellata di bellezza al volto della Chiesa, a beneficio e splendore dell'umanità creata e redenta. La prima verità della Chiesa è l'amore di Cristo. Di questo amore che giunge fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Carissimi, in questa Pasqua passiamo di risurrezione in risurrezione, non per il tempo che scorre, ma per l'amore che si espande. Nella nostra memoria, come nella tomba vuota, rimangano il sudario e le bende delle offese perdonate, mentre nella vita piena in Cristo camminiamo da fratelli sotto l'azione dello Spirito Santo. Pace a voi tutti che siete in Cristo.